E se una minuscola crepa fosse solo l'inizio del più grande evento di sempre? A Gifoni oggi abbiamo visto il film L'era glaciale 4 e questo film mi è piaciuto un sacco e mettendo quella ghianda dentro fa uscire tutta una specie di scoglie enorme e sta per distruggere l'isola. Parla di un mammut che durante il distaccamento dei continenti si deve separare dalla sua famiglia. E allora vanno in cerca di una nuova isola. Per questo incontrano grandi pericoli come ad esempio una nave di pirati. Ai posti di combattimento! Consegnatemi la vostra nave o sfiderete la mia furia. Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato il grande elefante perché voleva salvare la figlia. Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato Diego, la tigre dei denti a sciabola. Mai vista una tigre gentile? Si dà il caso che io sia un predatore spietato. Dieguccio! Ehi, ti ho fatto un'altra collanina di corallo. Le perde sempre tutte. Un ultimo sorriso che siamo in dirittura d'arrivo. Ma come diventate tristi? Allora continuiamo ancora un po'. Anche perché il nostro obiettivo è raggiungere un'esplosione di felicità. Ehi, ti ho fatto un'esplosione di felicità. Ehi, ti ho fatto un'esplosione. Ehi, ti ho fatto un'esplosione di felicità. Un'esplosione di felicità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.